Dire di voler commettere un reato è meno grave che commetterlo, almeno questo pensano tutti. Eppure per il diritto non è così, e a volte, quando si passa dalla parola ai fatti, la pena si riduce. Ti può sembrare un paradosso? Senti questo. Secondo la legge, chi minaccia di danneggiare commette reato, ma chi la danneggia no. No. Questo significa che chi fa tante chiacchiere viene incriminato, mentre chi agisce conserva intatta la fedina penale. Possibile? Assolutamente sì, almeno in presenza di determinate condizioni. Facciamo due esempi. Marcello ha un acerrimo rivale in condominio, si tratta di Ernesto, suo dirimpettaio di pianerottolo. Un giorno Ernesto nota che l'auto di Marcello all'interno del cortile condominiale è parcheggiata in malo modo e non gli consente di passare. Appena lo vede, indeisce contro di lui e lo minaccia. Appena ti giri, ti dico tutta la fiancata, gli dice. E poi, ti buco anche le gomme. Marcello, per il timore di dover riparare tutta la macchina, sta tutto il giorno in tensione e di tanto in tanto controlla dal balcone che sia tutto a posto. Poi, a fine giornata, decide di denunciare Ernesto per la minaccia ricevuta. Beh, in questo esempio, chi proferisce la minaccia commette reato, va quindi incontro a un processo penale, alla sanzione e al conseguente pagamento del risarcimento alla parte civile. Torniamo all'esempio di prima. Ernesto, anziché minacciare Marcello di rompergli l'auto, che fa? Aspetta che questo si assenti per streggiare il cofano con un chioro. Ernesto denuncia Marcello, ma la querela viene archiviata. Il comportamento di Ernesto, in questa seconda ipotesi, rientra nel danneggiamento semplice, quello cioè commesso su luoghi privati come un giardino condominiale. Ebbene, tale comportamento è stato depenalizzato ed oggi non viene punito se non con una sanzione civile, da 100 a 8000 euro. Il tutto subordinato, peraltro, all'avvio di una causa intentata dal danneggiato, il quale però potrebbe non trovare conveniente agire in tribunale per un danno così irrisorio. Così, buona pace per il colpevole che non sarà mai punito. Resta reato, invece, il danneggiamento aggravato, quello cioè commesso su una strada pubblica o un parcheggio pubblico. La sostanza è dunque questa. Chi minaccia di danneggiare una cosa altrui commette sempre reato, quello appunto di minaccia. Al contrario, chi passa direttamente i fatti e danneggia il ben altrui, ma lo fa in modo da non rientrare nelle condotte aggravate, ad esempio, abbiamo detto, quando l'auto è parcheggiata in una piazza, non commette alcun reato, essendo il danneggiamento semplice un illecito non più penale ma amministrativo. Questa è la legge. Questa è la legge. Cazzo mia. Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.